Si chiama Simba appena 10 mesi ed è un gattino di razza Ragdoll e adesso si unisce agli altri amici a quattro zampe che prestano servizio anche all'ospedale San Donato di Arezzo. Le caratteristiche di questa razza sono molto docili, amano essere coccolati, vanno d'accordo anche molto con altri animali, poi molto morbido e può dare anche alle persone un attimo durante le terapie di compagnia e di svago. Simba così scenderà in corsia assieme ai suoi colleghi a quattro zampe per offrire un conforto ai pazienti dei reparti di oncologia e radioterapia dell'ospedale Aretino. Gli animali rientrano un po' nel nostro obiettivo, nel concetto un po' più ampio di umanizzazione delle cure perché ci piace che i pazienti che arrivano nella nostra sala di attesa possano avere un momento più che di stare con la paura, con l'ansia, di avere dei momenti di rilassamento. A gestire le attività di pet therapy da oltre dieci anni è l'associazione Gaia. Si affianca alle terapie che normalmente il paziente svolge. Che cosa va a fare? Va a migliorare l'efficacia della terapia che il paziente sta svolgendo. I gatti, specialmente alcune razze come ad esempio il ragdoll, sono molto adatti per poter effettuare la pet therapy. Innanzitutto rispetto al cane, che è veramente eccezionale tutto, però immaginiamoci un cane in grembo. Inoltre il gatto ha questa cosa meravigliosa di fare le fusa, che praticamente sono veramente rilassanti. Ma soprattutto secondo me rispetto al cane che noi siamo dipendenti, che il cane è dipendente da noi, nel gatto c'è una dipendenza diversa. La persona è dipendente dall'anima, dal gatto.